In quarantena chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. L'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza disciplina e rientri anche in Abruzzo e impone a chi abbia soggiornato o transitato in questi quattro paesi negli ultimi 14 giorni di sottoporsi a tampone entro 48 ore dall'arrivo e di rimanere in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dell'esito negativo del test. Dell'ordinanza sono state informate le ASL, le prefetture, la direzione marittima di Pescara, la Saga e l'ENAC. Il provvedimento si aggiunge a quello ancora in vigore dallo scorso 24 luglio che riguarda chi rientra dalla Romania. Chi atterra l'aeroporto d'Abruzzo con uno dei voli che provengono da Spagna e Malta sarà subito sottoposto a tampone o ronasale in locali allestiti direttamente nello scalo. Questo già dal 16 agosto quando arriverà un aereo da Girona in Catalogna. Chi invece tornerà tramite treno o un mezzo privato dovrà comunicare il rientro alla ASL e sottoporsi a tampone comunque entro 48 ore. Da inizio marzo ad oggi ha dichiarato il presidente della saga Enrico Paolini. Non abbiamo registrato alcun caso positivo ma non dobbiamo abbassare la guardia, ha concluso Paolini. Nuovi casi di contagio infatti sono scoperti costantemente. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo ve ne sono 16, due nella provincia aquilana, uno in quella di Chieti, due in quella di Pescara e undici nella provincia di Teramo. Di questi sette riguardano ospiti del CAS di Civitella del Tronto. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 234 più 13 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti. 24 pazienti, ovvero uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 209 più 12 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. In Abruzzo, ricorda l'assessora regionale alla salute Nicoletta Veri, c'è ancora l'obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto, in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento. Un memorandum che giunge alla vigilia del weekend di Ferragosto, durante il quale sono temuti assembramenti sconsiderati. Un appello, quello di rispettare le misure anticontagio, rivolto specialmente ai più giovani, che stando all'abbassarsi dell'età media dei contagiati, sarebbero coloro maggiormente esposti al virus, per motivi che riguardano lo stile di vita.